Grazie e buonasera, grazie ai miei amici invitati qua, è molto bello suonare i brani che abbiamo scritto noi, noi siamo io da vita, buon direttore, e a sue mani, sì! Justa for a while and listen, how quick this is, how quick this is, how quick this is, how quick this is, imagine for a second or once that we get, Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì.